Siamo arrivati a circa dieci giorni consecutivi di sforamenti, dobbiamo preservare la salute delle nostre comunità e per far questo credo che anche quest'anno dovremo rinunciare a quella che è una tradizione molto sentita. La decisione definitiva, il sindaco Conte lo ribadisce ancora una volta, verrà presa 48 ore prima dell'eventuale accensione dei panevin dell'Epifania, ma il primo cittadino si dice pessimista. Le previsioni meteo annunciano precipitazioni blande, probabilmente insufficienti a spazzare via la pesante capa di smog che opprime la marca e la scelta di vietare anche quest'anno i falò dieci, quelli per i quali è stata chiesta l'autorizzazione al comune, appare al momento inevitabile. Tra la tradizione e la salute dei miei cittadini ovviamente lo spirito di responsabilità mi porta a propendere verso l'annullamento della tradizione. Dispiace perché è un momento di comunità, è un momento sentito, è un momento che si aspetta tutto l'anno, però con questi picchi di inquinamento sinceramente non me la sento di derogare. Panevini incompatibili anche quest'anno con i livelli di PM10 e le raccomandazioni del sindaco vanno anche oltre. L'appello che faccio è quello di abbassare tutti di qualche grado le temperature all'interno delle abitazioni in modo da limitare l'utilizzo delle caldaie che sono il primo fattore inquinante, molto più inquinante anche rispetto alle autovetture. Se possiamo evitare le autovetture poi facciamo attenzione quando passiamo delle ore all'aria aperta ai livelli di inquinamento perché insomma ne va della nostra salute e quindi dobbiamo preservarci. A ridurre le PM10 dovrebbe contribuire anche il divieto di utilizzo dal 30 dicembre al 7 gennaio di fuochi d'artificio e petardi. Ordinanza questa è messa innanzitutto per contenere il pericolo che qualcuno si faccia male e soprattutto nel rispetto degli animali. Per evitare che in troppi eccedano invece la notte di capodanno dalle 18 del 31 dicembre fino alle 6 del primo gennaio saranno vietati la vendita e la detenzione di alcolici e in generale di bevande in contenitori di vetro o lattine non stappate nell'area di piazza dei signori dove si terrà la festa di san silvestro. Alla zona si accederà attraverso dei varchi ingresso da via barberia e via indipendenza uscita da cal maggiore salvo in caso di emergenza per cui sono previste ulteriori vie di fuga verso la galleria di palazzo dei 300 piazzetta monte di pietà e vicolo broli.